Musica Buonasera per i ritrovati da Antenna Sud, un uomo in pieno centro a Casarano nell'Eccese è stato freddato con tre colpi di pistola. Il servizio di Francesco Schiavano. E' morto sotto gli occhi di tutti Antonio Affendi, 32enne originario di Casarano, che nella mattinata di sabato è stato vittima di un agguato nella sua città. L'episodio si è verificato intorno alle ore 11 circa in via Lupo, a pochi passi da Piazza Petracca. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, due soggetti a bordo di un'auto, entrambi a volto scoperto, avrebbero raggiunto l'uomo contro il quale hanno sparato tre colpi di Kalashnikov, i quali si sono rivelati fatali per il 32enne che è morto sul colpo. I sanitari giunti sul posto dall'ospedale Cardinale Panico di Tricase non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo che il 25 ottobre 2019 era già scampato a un altro attentato. Anche in quell'occasione venne raggiunto da due colpi di Kalashnikov al collo e alla schiena. La dinamica dell'attentato odierno contro Antonio Affendi, molto simile a quello di tre anni fa, anche nella scelta della tipologia dell'arma e le modalità con le quali si è verificato l'episodio, non sono dettagli su cui passarci sopra per i carabinieri del comando Compagnia di Casarano che indagano su quanto accaduto anche con l'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona già a disposizione dei militari e l'ascolto di alcuni testimoni che si è protratto per tutto il pomeriggio di sabato. Affendi, secondo gli investigatori, all'indomani dell'assassinio di Agustino Potenza avrebbe preso in mano le redini dell'organizzazione, forte del vincolo con la vedova dello stesso Potenza. L'agguato di oggi conferma ancora una volta l'attività della malavita nella zona dell'Interland casaranese. Non si è fatta attendere la risposta delle istituzioni in seguito al grave attentato che ha scosso la comunità di Casarano nella mattinata di sabato. Dopo poche ore dall'episodio il prefetto di Lecce, Luca Rotondi, ha convocato una riunione tecnica di coordinamento sulla pubblica sicurezza e ha disposto un immediato innalzamento del livello della sicurezza nell'area di Casarano. A breve il questore di Lecce, Massimo Modeo, con un'ordinanza disporrà l'arrivo di più finanzieri, poliziotti e carabinieri sul territorio. Una ferma condanna di quanto accaduto è giunta anche dal senatore Roberto Marti, presidente della settima commissione permanente di Palazzo Madama. L'omicidio avvenuto in pieno giorno per le strade di Casarano rappresenta un tragico segnale della presenza e del risveglio della criminalità organizzata nel nostro territorio, dichiara il senatore. In questo momento cruciale lo Stato continua a dimostrare la sua determinazione nella lotta contro la criminalità organizzata. Lo Stato è pienamente impegnato nel garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Utilizzeremo tutti i mezzi a nostra disposizione per contrastare la criminalità e proteggere i cittadini. Il governo continuerà a garantire il suo impegno per un territorio sicuro e pacifico per tutti. Servono più controlli, lo chiedono le organizzazioni sindacali di Brindisi a seguito dell'incidente mortale sul lavoro di Giuseppe Petraglia. Regna il silenzio in via Giuseppe Battista Amici nella zona industriale di Brindisi dove nel pomeriggio di venerdì 1 marzo ha perso la vita Giuseppe Petraglia all'interno di una struttura oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. Il quarantenne brindisino, da quanto ricostruito, sarebbe precipitato dal tetto di un edificio mentre stava eseguendo alcuni lavori. L'operaio sarebbe caduto da un'altezza di oltre 10 metri. L'arrivo dell'ambulanza del 118 ha potuto solo costatarne il decesso. L'area è stata posta sotto sequestro, così come la salma che è stata portata presso la camera mortuaria del cimitero di Brindisi. Sul posto si è recata una pattuglia della sezione volanti della questura di Brindisi, la squadra mobile, il personale dello Spesar per la ricostruzione dell'accaduto. La notizia ha lasciato sgomenti gli amici dell'uomo, conosciuto anche per la sua passione sportiva. Petraglia era infatti un calciatore della Virtus Mesagna e formazione militante nel campionato di seconda categoria che in una nota ha espresso il suo cordoglio per questa perdita inaspettata. A chiedere invece maggiori controlli dopo questa ennesima tragedia i sindacati tutti. È possibile che un lavoratore vada a prestare la propria opera e poi non torni più a casa presso i propri familiari. Insomma c'è bisogno di fare tanto. Io ritengo il primo punto che bisogna osservare è quello di irrobustire quelli che sono i controlli perché a mio avviso in questi anni c'è stato un depauperamento degli ispettori, degli ispettori che si recano sul lavoro e poi bisogna investire in formazione e fatemelo dire. Noi non sappiamo che cosa è accaduto e sarà la magistratura evidentemente a fare le sue indagini. Però c'è un punto fermo ed è quello che noi dobbiamo cambiare anche il mercato del lavoro. Sei arresti per traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di un gruppo criminale radicato tra Torino e la Puglia. Narcotraffico sull'asse Piemonte-Puglia smantellato dalla Guardia di Finanza il mercato dello spaccio nei quartieri torinesi Barriera di Milano, Madonna di Campagna e Mirafiori. Uno dei soggetti colpiti dal provvedimento era operativo a cavallo di più regioni curando i collegamenti per le forniture di stupefacente tra Piemonte e Puglia, in particolare l'area di Cerignola nel Foggiano dove confluivano importanti quantitativi di narcotico. Sono in tutto 6 gli arrestati, 5 in carcere, 1 ai domiciliari con le accuse di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, principalmente Ashish. Le investigazioni hanno fatto anche emergere che uno dei principali esponenti del sodalizio era caratterizzato da movimenti collocabili all'atere di rilevanti dinamiche di criminalità organizzata, in particolare di matrice andranghetista. Il gruppo criminale aveva una consolidata rete di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente che andava dall'acquisto allo stoccaggio fino alla sua commercializzazione. Gli indagati erano soliti anche organizzare viaggi all'estero, in particolare Spagna, allo scopo di reperire migliori canali di approvvigionamento di narcotico. Lo spessore e la caratura criminale della compagine investigata sono emersi tra l'altro dalle modalità con cui avvenivano le comunicazioni tra gli indagati, ossia tramite apparati cellulari di prima generazione appositamente dedicati, oppure attraverso applicazioni che utilizzano il traffico dati per rendere più difficili le attività di intercettazione. Nel corso delle investigazioni sono state ricostruite movimentazioni di hashish per almeno 160 kg di sostanza stupefacente, per un controvalore di mercato al dettaglio di oltre 1 milione e 600 mila euro. Andiamo a Bari, nelle carte dell'inchiesta. Codice interno emerge come i clan del capoluogo monitorassero i seggi comunali 2019 per conto di Giacomo Olivieri e sua moglie. Vedette rappresentanti di lista al soldo dei clan, una macchina organizzata nel migliore dei modi con il compito di vigilare i seggi il giorno delle elezioni comunali 2019 e a chi prometteva e non manteneva una punizione fisica, uno schiaffo. E' solo l'ultimo dei dettagli che emerge dall'inchiesta codice interno che la scorsa settimana ha portato a 135 misure cautelari facendo emergere un mondo grigio fatto di relazioni tra malavita organizzata, politici locali e colletti bianchi per reati che vanno dall'associazione mafiosa al voto di scambio. Questo è quanto avrebbe raccontato ai PM della DDA un pregiudicato spiegando di aver anche allontanato dai seggi i vigili urbani che erano stati mandati per un servizio di controllo. Le elezioni in questione sono quelle del maggio 2019 quando tra i candidati della lista di rella sindaco a supporto del candidato di centrodestra c'era la moglie di Giacomo Olivieri tra i 110 in carcere, Maria Carmen Lorusso ora ai domiciliari. Le di Olivieri intanto comparirà lunedì prossimo davanti ai PM. Dall'inchiesta dei sostituti antimafia Fabio Buquicchio e Marco D'Agostino con l'ausilio degli uomini della squadra mobile di Bari coordinati da Filippo Portoghese sarebbero venute fuori le manovre illegali che Olivieri avrebbe architettato per far vincere la moglie documentando i contatti diretti tra l'avvocato e diversi esponenti delle organizzazioni mafiose del capoluogo per inquinare l'esito del voto. Non solo soldi e buoni benzina ma anche promesse di posti di lavoro. Qualcuno sarebbe stato inserito nelle liste e il caso di Michele Nacci imparentato con il capo clan del San Paolo Andrea Montani Malagnac primo dei non eletti. Altri come vedette davanti alle scuole, altri ancora come rappresentanti di lista con il compito di assicurarsi che nessun voto andasse perduto. E poi il motorino promesso al figlio di Bruno Montano, suocera di Nacci, finita in carcere un cinquantino, precisa Olivieri, in una intercettazione. Ancora giudiziaria, processo sistema Otranto, in aula iniziano le questioni preliminari. Il processo sul presunto sistema Otranto ha finalmente preso il via dopo alcune false partenze. Nelle scorse ore sono state affrontate le questioni preliminari del dibattimento che vede imputati i fratelli Luciano e Pierpaolo Cariddi, entrambi ex sindaci di Otranto. Un totale di 47 persone sono coinvolte con due parti civili rappresentate dalla regione e dal comune. I fratelli Cariddi sono stati arrestati nel settembre 2022 a seguito di un'inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone e dall'APM Giorgia Villa. Dopo essere stati sottoposti agli arresti domiciliari al divieto di dimora a Otranto, ora sono liberi il pubblico ministero che sosterrà l'accusa e Patrizia Ciccarese. Secondo le contestazioni formulate sulla base delle indagini condotte dai carabinieri, dai finanzieri e dalla polizia provinciale, a Otranto sarebbero stati commessi numerosi reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l'amministrazione della giustizia. Questi reati sarebbero stati commessi al fine di favorire un gruppo di imprenditori in iniziative private, in cambio del sostegno elettorale per Luciano Cariddi, già sindaco di Otranto e candidato al Senato nel marzo 2018 e per il fratello Pierpaolo, suo successore come primo cittadino. Secondo l'accusa questo sarebbe stato uno strumento per agevolare gli investimenti degli imprenditori, violando le norme urbanistiche e di tutela del paesaggio. Durante le questioni preliminari, i regali dei fratelli Cariddi e altri due imprenditori hanno chiesto la restituzione delle copie dei telefonini in possesso della procura, a causa della presenza di contenuti privati e strani all'oggetto del processo. Il processo riprenderà il prossimo 22 marzo davanti al collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce. A Cannosa di Puglia è stato inaugurato un centro servizi per le famiglie. Nell'aula consigliare del Palazzo di Città si è collegata in videoconferenza la ministra per le famiglie e delle pari opportunità, Eugenia Roccella. I centri della famiglia devono diventare una nuova rete di sostegno veramente in tutta Italia e in particolare ovviamente nel nostro meridione. La ministra per le famiglie e le pari opportunità, Eugenia Roccella, in videocollegamento con l'aula consigliare di Cannosa di Puglia, ha spiegato l'importanza delle azioni nei confronti delle famiglie nell'intero paese, ringraziando le istituzioni del territorio per l'impegno profuso in questa direzione. A Cannosa è stato infatti inaugurato un centro servizi per le famiglie. Doppio valore aggiunto perché il presidio di Guelfar avrà sede all'interno di un mene confiscato alla criminalità organizzata. Fino al 2018, di fatti, l'immobile apparteneva al clan Pierulli-Ferraro. Un doppio effetto dovuto anche ai fondi del PNRR che vanno a finanziare un immobile sequestrato alla mala, alla mafia, che diventa invece patrimonio comune, diventa un centro per i servizi alla famiglia, quindi oltre appunto per tutti i disagi legati alle dinamiche familiari, riportano le misure del Guelfar. Quindi ha un'azione diciamo sia di informativa ma anche come dire di presidio del territorio stesso. Il centro di via Federico II numero 20 offrirà nuove azioni a favore delle famiglie e dell'ambito territoriale che garantiranno consulenza familiare e legale, diritti, mediazioni su affido, violenza nei confronti di donne e bambini, senza tralasciare casi afferenti alla giustizia minorile e ordinaria. Per la ministra Roccella bisogna tornare a dare peso alla famiglia aiutando i genitori che spesso sono smarriti. Lacrime ed applausi per il ritorno di Adriana Polibortone. Sarà a lei a sfidare Carlo Salvemini per la poltrona di primo cittadino. Senatrice si parte, finalmente questa campagna elettorale del centro-destra, tanto atteso il nome del candidato, si parte con un centro-destra unito? Unitissimo, unitissimo. Ho letto da qualche parte che dicevano che ancora c'erano delle frizioni fra me e Raffaele Fitto. Nessuna frizione, anzi guardate, siamo vicinissimi, non vicini, ma vicinissimi tutti quanti, perché abbiamo avuto la saggezza di sapere stare di nuovo uniti. Lacrime, applausi ed emozioni per la candidata sindaca del centro-destra Lecce, Adriana Polibortone. Un vero tsunami di gente, l'altra volta con il suo entusiasmo. Presenti tutti i vertici regionali, provinciali e comunali del centro-destra. Onorevole, il centro-destra si compatta intorno a un nome storico per la città di Lecce? Sì, un nome storico di prestigio che unisce il centro-destra e riteniamo che ci sia un'alchimia per vincere e vincere bene. Siamo certi di aver fatto la scelta migliore, siamo uniti. Quando siamo uniti abbiamo grandi possibilità di portare un progetto politico importante nelle città, nelle regioni e anche a livello nazionale. Il centro-destra ha fatto un ottimo lavoro in queste settimane, il tempo è stato impiegato bene, è la scelta dell'esperienza per una guida di una città che negli ultimi anni è stata abbandonata. Oltre a vecchie glorie al record du MEN che assicurano la loro scesa in campo al fianco della senatrice per vincere le prossime elezioni comunali. E lei si candiderà con Adriana Polibortone? Sì, mi candido perché credo che sia opportuno rilanciare un modello. Si confrontano due modelli, due visioni di città, quello del fare, quello che è stato fatto con quello del farò. Sì, l'ho già detto due mesi fa, avevo speranza che il centro-destra fosse unito per la prima volta, finalmente vediamo un centro-destra come non mai. Senatrice, a chi pone l'accento sulla sua età anagrafica? Lei cosa risponde? Che sono fiera della mia età perché me la porto abbastanza bene. A la moglie! A la moglie! E si è svolta a Gallipoli l'assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle durante la quale iscritti e simpatizzanti hanno dialogato sul lavoro svolto e sugli obiettivi futuri. Numerosi gli iscritti e simpatizzanti salentini del Movimento 5 Stelle che hanno preso parte all'assemblea provinciale di venerdì pomeriggio durante la quale sono stati chiamati a a dialogare e confrontarsi su tematiche nazionali e locali dopo un breve saluto del leader Giuseppe Conte in collegamento da remoto. La riunione è stata l'occasione per una discussione anche in chiave costruttivamente critica sul lavoro svolto e sui tanti progetti futuri. A partire dalla scuola di formazione del Movimento fortemente voluta dal Presidente Conte è partita lo scorso 15 febbraio con una serie di lezioni tenute da docenti universitari e rivolte agli oltre 25.000 aderenti ai gruppi territoriali costituiti su tutto il territorio nazionale. Noi attraverso i gruppi territoriali abbiamo un momento di confronto con i nostri iscritti per iniziare a programmare poi il radicamento sui territori. Ormai il Movimento 5 Stelle ha attivato oltre 260 gruppi territoriali in tutta Italia e quindi siamo pronti a competere alla pari con le altre forze politiche che hanno una storia più longeva. Durante la discussione non sono mancati inoltre punti di vista e riflessioni sui prossimi impegni elettorali. Sul Lecce ovviamente noi nei mesi scorsi abbiamo lanciato una serie di appelli. Prima abbiamo chiesto di fermare le primarie per provare in un tavolo per capire se c'erano le condizioni per avviare un percorso insieme. Ovviamente non siamo stati ascoltati, le primarie si sono fatte quindi è chiaro che oggi la strada è molto più complicata. Siamo sempre aperti al dialogo ma ovviamente non stiamo ad aspettare, abbiamo già dei progetti eventualmente alternativi da mettere in campo, ci sono diverse realtà civiche, politiche che guardano con interesse al Movimento 5 Stelle, come sempre proveremo a fare il bene dei cittadini ovviamente anche sul Lecce. Sia il voto elettronico ma manca l'accordo su date. E seggi ancora fumata nera sulle unitarie del centro-sinistra barese, pontieri al lavoro per una consultazione entro fine mese. Unitarie sì, e se tu dici unitarie perché vuoi le primarie, non può impedire, limitare o rendere difficoltoso la partecipazione degli elettori della città di Bari. Sia il tablet nei seggi e al voto elettronico è niente più schede cartacee ma niente accordo sul luogo e disposizione delle operazioni di voto, tanto che neppure la mediazione di tre macro contenitori come Fiera da Levante e Palaflorio sembra reggere. D'altro canto i DEM partono da almeno nove postazioni nei cinque municipi. L'unica certezza della consultazione pubblica che desegnerà la guida del centro-sinistra di Bari alle comunali di Giugno sono i candidati, Vito Leccese e Michele Laforgia. Io mi fido di te e tu devi fidarti di me su chi andrà ai seggi. Più possibilità, di più punti per far partecipare di più l'agenzia. Non ha ragione Vito, sono elettari e non servono a niente a questo punto. Tra le date possibili non si esclude che la scelta possa cadere sull'ultimo weekend di marzo, nonostante sia quello delle palme, quello successivo d'altro canto sarebbe festivo e il precedente rischia di essere troppo vicino per mettere a punto tutti i dettagli della macchina. Piuttosto che alimentare divisioni, vanno anche affrontate cercando di fare un gioco di squadra. Per me un gioco di squadra significa che se adesso è a tavolino, vedere un po' qual è la soluzione migliore. Hanno preferito le primarie, obbediamo, facciamoci le primarie. Alla prova la tenuta dell'amministrazione comunale della città di Andria. Le dimissioni del capogruppo del PD, Michele Di Lorenzo, potrebbero aprire una nuova pagina politica per la compagine guidata da Giovanna Bruno. La panoramica del Consiglio Comunale della Giunta Andriese potrebbe subire nei prossimi giorni un sensibile cambiamento ad alimentare il dibattito politico interno alla maggioranza guidata da Giovanna Bruno. Le dimissioni del capogruppo del PD, Michele Di Lorenzo. In un momento di fibrillazione, soprattutto perché si parla anche di rimpasti, di revisioni in giunta, ho voluto evitare che naturalmente queste contraddizioni risaltassero ulteriormente a danno dell'amministrazione. Ad animare la scelta dell'ormai ex capogruppo del PD, una differente visione del ruolo del Consigliere Comunale e la posizione dell'amministrazione su alcuni provvedimenti chiave. Il problema della Bretella Sud non riguarda tanto il Comune di Andria che si è schiarato in maniera coerente. Il problema è stato invece l'incoerenza della provincia e il fatto che probabilmente il Comune, che è stato esautorato nella sede di rinnovovia della valutazione di impatto ambientale, un documento che è un presupposto essenziale per la variante urbanistica, ebbene in questo caso non c'è stata nessuna reazione da parte del Comune che secondo me avrebbe dovuto non solo lamentarsi in maniera veemente, ma addirittura impugnare un atto che aveva pretermesso completamente l'unico ente competente in materia ambientale, cioè il nostro Comune. Paccatura attualmente non le vedo, ho ribadito ad altri che il nostro è un partito democratico plurale e non mi scandalizza il fatto che ci possono essere delle posizioni diverse all'interno sia del gruppo consigliare ma anche del partito. A Taranto i commercianti protestano, no al raddoppio del centro commerciale. Il servizio è del nostro direttore Gianni Sebastio. Esplode la protesta dei commercianti del centro urbano di Taranto, no al raddoppio del centro commerciale in zona Cimino. Gli aderenti a Confcommercio chiedono all'amministrazione comunale di ricorrere al Consiglio di Stato per fermare l'ipotesi di allungamento della città dicendo no al cemento con il cosiddetto comparto 32. I commercianti hanno effettuato dunque una prima iniziativa, un volantinaggio in via Liguria evidenziando all'opinione pubblica le gravi difficoltà in cui si dibattono. A loro dire il raddoppio del centro commerciale potrebbe desertificare ulteriormente il centro cittadino e far così morire numerose attività. Da qui l'accorato appello al Comune di Taranto. L'amministrazione comunale ci deve dare delle risposte ma ci deve dare delle risposte con dei fatti, non con delle parole. Le parole e le promesse non ci servono, abbiamo bisogno di fatti. Da oggi capirete cosa vuol dire quello che è un momento difficile per i commercianti. Tutti i giorni ricevo telefonate mortificanti da parte dei miei colleghi che sono costretti a chiudere le proprie attività e poi diametralmente a posto assistiamo invece a una sceneggiatura dove vede addirittura l'ampliamento di aree dei centri commerciali a discapito invece delle aree urbane che dovrebbero essere tutelate e difese ma non oggi doveva questa operazione, doveva iniziare già diversi anni fa. Io faccio parte della terza generazione appunto della mia attività e vorrei che la mia attività così come chi prima di me l'ha avviata potesse continuare nel tempo però date le condizioni attuali delle istituzioni e appunto del commercio tarantino la vedo difficile quindi chiedo aiuto affinché qualcuno dopo di me possa continuare a portare avanti la mia attività. Partiranno martedì 5 marzo i lavori per il dragaggio del porto di Barletta, la durata delle operazioni sarà di 85 giorni. Al via da martedì 5 marzo i lavori per il dragaggio del porto di Barletta, la nuova fase che permetterà di ampliare il volume dei fondali avrà una durata di 85 giorni durante questo periodo. La Capitaneria di Porto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si occuperà di regolamentare il traffico marittimo per salvaguardare sia l'ambiente marino e costiero sia il cronoprogramma delle attività. Arriva oggi finalmente una data certa che è quella appunto del 5 marzo, finalmente ci sarà in arrivo nei prossimi giorni, vedremo anche i movimenti all'imboccatura del porto perché adesso bisognerà lì ecosistemare appunto tutta l'aria, ci saranno come appunto io ringrazio anche l'ordinanza che è stata ieri fatta dal comandante della Capitaneria di Porto come anche il Ministero delle Infrastrutture che ci ha dato una mano nel corso del tempo perché purtroppo la caratterizzazione dei fanghi sono state tante le procedure e tanti purtroppo poi voglio dire anche il tempo che è passato. Però finalmente oggi abbiamo una data certa, abbiamo un tempo certo e quindi finalmente quella che è l'insabbiatura dell'imboccatura del porto, oggi si ripristinano i valori dei fondali, quelli di un tempo. Un percorso che parte dal primo finanziamento ottenuto nel 2011 pari a 2 milioni di euro dopo 13 anni, il costo complessivo dell'opera è stato quantificato in un finanziamento di circa 6 milioni al termine dei lavori, il porto di Barletta potrà ospitare navi commerciali fino a 10 mila tonnellate. Adesso però c'è il secondo step, cioè che è quello prossimo del bando di gara per l'allungamento del Moli e quindi quello è il successivo, sappiamo tutti c'è un finanziamento di 25 milioni, ci sarà soltanto, ma il bando è già pronto, da reperire qualche altra risorsa e poi anche quest'ulteriore opera importante, strategica per il nostro porto partirà anche a breve. I parlamentari Iaia e Maiorano hanno raggiunto questa mattina la questura di Taranto per solidarietà le forze di polizia a seguito delle polemiche delle manifestazioni studentesche di Pisa e Firenze. Una visita simbolica e ricca di significato, i vertici tarantini di Fratelli d'Italia hanno raggiunto la questura di Taranto per manifestare vicinanza e sostegno alla Polizia di Stato dopo le polemiche seguite alle manifestazioni studentesche di Pisa e Firenze e alle cariche delle forze dell'ordine nel corso dei due cortei. Presenti assieme ai parlamentari Iaia e Maiorano il consigliere regionale Perrini, i consiglieri comunali Pietri e Toscano, il coordinatore cittadino Mongelli che hanno colloquiato con il questore Massimo Gambino. Da più parti a livello nazionale sono giunte dure critiche all'operato degli agenti nella gestione dell'ordine pubblico che i parlamentari ionici respingono con fermezza. Abbiamo ritenuto di venire qui in questura per rappresentare la vicinanza nostra a tutte le forze di Polizia, Polizia, Carabinieri, Guardie di Finanza e quant'altro. Nei giorni scorsi ci sono state importanti strumentalizzazioni in danno delle forze dell'ordine, Fratelli d'Italia è con le forze dell'ordine. Ricordiamo che la democrazia in Italia è tutelata, quest'anno si sono svolte centinaia di manifestazioni senza alcun problema, quindi si possono continuare a svolgere, non c'è nessuna emergenza democratica. La mia provenienza è quella della Polizia di Stato, ho vissuto anche dall'altra parte, quindi conosco bene cosa si prova in quei momenti, cosa può significare una manifestazione che viene, che degenera per volontà dei manifestanti. C'è stata volontà dei manifestanti di voler forzare a tutti i costi e quindi di andare oltre le loro autorizzazioni e quindi di forzare e aggredire le forze dell'ordine. Ci fermiamo per qualche minuto e rimanete con noi. Ed eccoci ritrovati da Antenna Sud, inaugurata a Brindisi la nuova illuminazione presso il Parco Tonino di Giulio del quartiere Commenda. Un segnale di contrasto al degrado urbano e questo è il messaggio che l'amministrazione comunale di Brindisi vuole dare all'inaugurazione della nuova illuminazione per il Parco Tonino di Giulio del quartiere Commenda, più volte oggetto di atti vandalici. Un messaggio rivolto all'intera comunità di tutela dei luoghi comuni che possono essere sempre più punto di riferimento per le famiglie e per i giovani brindisini. Io ho parlato qui con molte mamme che hanno ribadito l'importanza di questo parco e per questo motivo io ho voluto coinvolgere una bambina Arianna nel taglio del nastro perché come ho detto questo parco è dei bambini ed è giusto che fossero loro ad inaugurarlo perché saranno loro a fruirlo. Speriamo che questo sia il primo di una lunga serie di esempi di riqualificazione che riportano anche nella città un senso di convivenza che come sempre deve essere improntato, come dico, dal primo momento del nostro insediamento ad una cittadinanza responsabile. Presente la signora Di Giulio, tutti i rappresentanti della fondazione Di Giulio che sono venuti a stringerci la mano e noi è stato, devo dire, un momento anche di commozione per noi, perché avere qui la famiglia Di Giulio dopo tanti anni è stato importante perché questo parco, come sapete, purtroppo è rimasto abbandonato per tanti anni e ora avere anche qui la fondazione, la signora Di Giulio, essere presente ovviamente a questa importante inaugurazione per noi è un grande motivo di orgoglio. Convivenza civile, che rappresenta per quanto ci riguarda l'elemento fondante del vivere civile e del percorso che l'amministrazione sta riprendendo possa diventare questo un punto di partenza per la riqualificazione anche di tutti gli altri parchi. A Taranto questa mattina è stata inaugurata la Fiera del Mare, il mare come risorsa economica di rilancio. Con l'inaugurazione delle 9.30 sulla rotonda del lungomare di Taranto apre i battenti ufficialmente l'area espositiva della Fiera del Mare, una giornata intera dedicata a talk sul tema ma anche a rappresentazioni teatrali e musica fino a tardasera. Insomma il mare è protagonista ma non solo intorno alla città, diventa protagonista anche delle attività economiche e culturali. Molti operatori turistici e di stand, più di 45, tanti momenti, tanti talk, tanti momenti culturali, tanti momenti anche di show cooking, di spettacoli, sempre con a tema il mare. Quindi il mare è un vero paniere di opportunità per la nostra città, quindi lo sport che vedremo qui sotto grazie alla disponibilità della Lega Navale dove i nostri ragazzi si potranno cimentare nelle attività sportive acquatiche ma anche tante occasioni per acquisire ancora di più quella consapevolezza che noi l'abbiamo già maturata in questi anni e l'abbiamo messa sul campo di come il mare possa essere veramente un traino per il rilancio della nostra economia. E adesso un'altra inaugurazione ma ci spostiamo a Lecce per il Salone Nautico del Salento, NautiGo. Ritorna a Lecce presso il polo fieristico di Piazza Palio NautiGo, il Salone Nautico del Salento che per una settimana ospiterà l'eccellenza della produzione dei cantieri nautici nazionali e internazionali. Ad aprire la manifestazione al classico taglio del nastro, oltre al responsabile di NautiGo, Corrado Garrisi, era presente il presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, e le rappresentanze delle istituzioni del territorio. È una rassegna che sta crescendo, che si sta affermando, che si sta legando anche a quella più nota e importante di Brindisi, la ricchezza anche degli espositori, la vastità delle offerte sta qui a rimostrare quanto anche Lecce si sta progressivamente facendo conoscere come città del mare. Grazie al nuovo format del Salone è possibile ammirare anche i più innovativi accessori per il settore nautico, le attività specializzate, una rassegna dedicata al mercato dell'usato, al mondo della pesca e di altri settori collegati alla nautica, uno degli ambiti con maggiori prospettive di espansione, anche in Salento. Il nostro territorio poi è un territorio in cui noi abbiamo delle grandi professionalità di produzione di imbarcazioni, abbiamo delle aziende che producono imbarcazioni da oltre 30 anni, da più di 30 anni, 35, e sono tutte aziende che hanno ormai un riconoscimento anche nazionale, quindi riuscire a portarle qui e a esporle a casa propria, in un ambito in cui poi l'imbarcazione medio-piccola e l'imbarcazione più gettonata, più venduta, è un doppio argomento di orgoglio per noi. Con una missiva diretta al sindaco di Brindisi, Luca Ward avrebbe detto di essere pronto a lasciare la direzione del Teatro Verdi. Grazie per la fiducia, ma ho troppi impegni, avrebbe detto l'attore. I tanti impegni legati alla sua attività di attore e doppiatore, secondo ben informati, è questo il motivo che ha portato Luca Ward a rinunciare alla carica di presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Non c'è ancora un atto formale presentato dall'attore alla Fondazione, insomma le dimissioni non sono ancora ufficiali, ma secondo indiscrezioni, Ward avrebbe nelle settimane scorse inviato una comunicazione amichevole e informale al sindaco Marchionna, in cui spiegherebbe la motivazione di quelle che presto diventeranno le dimissioni ufficiali. La sua attività primaria non gli lascerebbe il tempo a sufficienza per dedicarsi al Teatro Verdi, che merita invece la massima attenzione per un completo rilancio. Il sindaco Marchionna, sempre secondo indiscrezioni, starebbe sondando la disponibilità di altre figure che possono sostituire Ward a capo del contenitore culturale Brindisino, non un artista questa volta, ma un manager forse più adatto a ricoprire questo tipo di incarico. Luca Ward, come si ricorderà in occasione della sua presentazione a novembre scorso, aveva detto di essere lusingato per la scelta ricaduta sulla sua persona per rilancio del Teatro Brindisino, evidenziando come ci fossero tutte le condizioni per farlo tornare agli antichi, ma non molto splendori. Intanto la predecessione di Ward, vale a dire la pianista e direttore d'orchestra Stefano Miceli, sul profilo Facebook ha lanciato nelle scorse ore un post al vetriolo sull'attuale gestione della fondazione, affermando Non vi rattristate, ci sono Stefano De Martino e più a Medeo a sollevarvi l'intelletto e lo spessore culturale, chiaro riferimento al cartellone del Teatro Verdi. A Lecce è una mostra dei grandi personaggi della storia, ma attraverso i loro testamenti. Maria Teresa Carrozzo. Storia, letteratura, politica, teatro, imprenditoria e religione è tutto rivisitato attraverso le ultime volontà di personaggi come Cavurga, Ribardi e De Nicola. Sono alcuni dei nomi dei grandi personaggi che hanno fatto la storia d'Italia, le cui ultime volontà sono state riscoperte dal notariato e messe a disposizione del grande pubblico attraverso la mostra itinerante e ho qui sottoscritto Testamenti di Grandi Italiani, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, una raccolta di documenti che narra l'Italia, da un punto di vista inedito, quello dei testamenti di politici, imprenditori e artisti che hanno reso grande il nostro paese. In occasione dei 150 anni dall'Unità d'Italia, nel 2011, ci è venuta l'idea di provare a raccontare i grandi italiani, non attraverso quello che si legge di loro di solito sui libri di storia, ma attraverso quello che a me piace definire l'ultimo messaggio, attraverso il loro testamento. Il testamento ha quella caratteristica di far sì che chi lo scrive spesso non si limita a lasciare e a disporre dei propri beni, che peraltro è già molto significativo del proprio modo di essere, ma spesso in quel documento si lascia una traccia, una testimonianza di sé che normalmente non viene resa pubblica prima, è proprio il testamento che la rende pubblica. Un patrimonio culturale, insomma, conservato negli archivi e nei musei d'Italia, che difficilmente è possibile visionare. E così, fino al 24 marzo prossimo, la mostra, io qui sottoscritto, testamenti di grandi italiani, si potrà visitare a Lecce, presso il convitto Palmieri. Noi, prima di tutto, come Consiglio Notaria di Lecce, siamo veramente onorati di aver allestito la mostra dei testamenti, dei grandi testamenti qui a Lecce. E l'abbiamo arricchita con dei testamenti di personaggi illustri salentini. Giulia Starace, che vedete, fondatrice della fondazione appunto alle Costantine. Michele De Pietro, avvocato, senatore, ministro di Grazia e Giustizia, Sigismondo Castromediano, a cui è legato il Museo Cittadino, e il Liborio Romano. Elezioni comunali 2024. Anche Maruggio andrà al voto. L'attuale sindaco, Alfredo Longo, è già al secondo mandato. In vista, forse, è il terzo. Abbiamo ascoltato i pareri dei cittadini. Elezioni comunali 2024. Anche Maruggio, Lotto e il 9 giugno prossimo andrà al voto. In carica, già da due mandati, c'è Alfredo Longo. Ebbene, ci potrebbe essere la possibilità di un terzo mandato. C'è un dibattito regionale in corso. Se fosse possibile, Longo si ricandiderà oppure no? Beh, è lui stesso a mettere le mani avanti. Sono stanco di fare il sindaco, ha ammesso. E lo ha scritto in un lungo post, molto intimo e confidenziale, su Facebook, svuotando il sacco. Ma alla fine il sindaco ha confessato una grande passione per questo ruolo, ha ancora tanti progetti da realizzare. Ci devo pensare, quasi interpellando i cittadini per aiutarlo a decidere. E allora noi di Antenna Sud vogliamo dargli una mano. E quindi siamo andati direttamente dai cittadini per capire cosa ne pensano. Terzo mandato per Longo, sì oppure no? Vorrei che si candidassi, perché è un bravo sindaco. Quindi sì? Sì. Per me no. È un sì. Perché dovrebbe ricandidarsi? La risposta non c'è, sta nei fatti. Ma qualcun altro chi? Ecco, qui arriviamo il punto interrogativo. Quindi non è che ci stava molto da combattere. Continua, può continuare, può continuare. Se lui non si ricandida, c'è qualcun altro che lo sostituisce, che si candida o no? Insomma, tra i maruggesi c'è un mix di sentimenti tra rassegnazione e incertezza. E comunque vada, Longo ha lasciato dietro di sé un'impronta di servizio sicuramente costante e duratura. All'Ocorotondo è stato inaugurato il canile e gli amici di Nerina, una struttura all'avanguardia dedicata al benessere degli animali. Fornire assistenza e cura ad animali abbandonati, bisognosi di cure mediche e di un luogo sicuro e amorevole. All'Ocorotondo è stato inaugurato il canile e gli amici di Nerina, struttura all'avanguardia dedicata alla salute e al benessere degli animali. Finalmente oggi si iscrive una pagina importante per il comune di Locorotondo, un lavoro che per me, come delegato al randagismo, è iniziato nel 2016 quando ho ricevuto la delega. La prima cosa che ho chiesto alla scorsa amministrazione era quella di acquistare il canile. Oggi risparmiamo quasi 40 mila euro rispetto a prima perché il canile è di proprietà del comune di Locorotondo. Nel frattempo abbiamo dovuto realizzare alcuni lavori, diversi lavori di adeguamento della struttura. In primis il canile sanitario che vediamo alla nostra destra, che è la parte più importante perché i cani incidentati o da operare devono necessariamente passare prima dal canile sanitario e poi nel canile di Fugio. Il canile offrirà servizi sanitari, veterinari e di riabilitazione per gli ospiti che avranno bisogno di cure speciali. Grazie a sinergie congiunte con l'ASA, le associazioni animaliste e l'amministrazione comunale, sarà possibile curare e fornire assistenza completa agli amici e quattro zampe per prepararli a una vita felice e di qualità. È tutto, la regia è stata curata da Fabio Pignatelli. Buon proseguimento di serata. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.